Aspettiamo, Gaetano, stiamo arrivando con Cacacce. Ricevuto, vi aspettiamo. Vedete, Aspettuno. Per me andare nella cella di Fantaccini e fargli coraggio è stata naturale. Perché tra detenuti ci sta questa solidarietà. La compassione che l'avete mostrato verso Fantaccini mi è sembrato di vedere la stessa umanità. Adesso invece sembra quasi che la cosa vi faccia incazzare. Cos'è? Non riuscite ad ammettere di aver avuto gli stessi sentimenti in un detenuto. Ragione, ma che cazzate stai dicendo? Parliamoci da uomo a uomo. Io e te non abbiamo niente in comune. Io una sera quando metto la testa sopra il cuscino sono sereno. Faccio il mio lavoro, mi pagano, ho la coscienza pulita. Non ho mai fatto male a nessuno. Non ho debiti di nessun tipo con nessuno. E questo mi dà una serenità che tu non conosci. Perciò io e te in comune non abbiamo niente. Che, ecco talistes. Grazie.